Abbiamo trattato e testati circa 200 casi di Parkinson e parkinsonismi, con un risultato quasi sempre, con veramente pochi casi che non rispondevano alla terapia. La cosa più bella che il paziente ci dice è non mi sento parkinsoniano e comunque vedere qualcuno che si alza da una carrozzina in 90 secondi e che lo fai correre nel corridoio e ha 10 anni che non correva, al di là di qualsiasi discorso scientifico, è la cosa per noi la più bella del mondo. Grazie